Bene, bene, partiamo, partiamo e vediamo psicologia inversa per conquistare. Rendilo ossessionato e fatti cercare. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Toramasko Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, ovviamente iscrivendoti, facendo donazioni se ti va. Allora, veniamo al tema psicologia inversa per conquistare. Rendilo ossessionato e fatti cercare. Allora, se ti interessa un uomo, se vuoi far sì che un uomo ti cerchi, una delle modalità intriganti, interessanti da utilizzare è quella della psicologia inversa. La psicologia inversa funziona, funziona molto bene ed è interessante. La psicologia inversa è interessante perché ci consente di ottenere dei grandi risultati, senti di ottenere dei grandi risultati, la psicologia inversa. Attraverso la psicologia inversa tu puoi raggiungere veramente dei risultati interessanti, perché è molto adatta alla mentalità maschile del voler conquistare. Perché molte donne sbagliano quando vogliono sudore un uomo, rendendogli la strada facile, rendendogli la strada in discesa. E proprio invece dall'antichità il maschio è sempre stato, diciamo, spinto proprio alla conquista. Ma le dicevano anche le nostre donne, il maschio è cacciatore. E in effetti è vero, il maschio è cacciatore. Ma cacciare cosa vuol dire? Vuol dire far fatica, inseguire la preda, sbattersi. Pensate ai nostri progenitori primitivi, maschi primitivi. Non è che uscivano e trovavano la preda lì che diceva, dai, non so con cosa andavano a cacciare all'epoca, con le pietre, con le lance, con qualcosa del genere, insomma, con... Dai, dai, sono qua, colpisci mi, colpisci... Anzi, mi suicido io per te, così ti tolgo anche questo fastidio. Eh, no. Andavano, faticavano, correvano, saltavano. Questo è un punto fondamentale. Non è mica una cosa banale, se andiamo a vedere. Per cui... Per cui devi tenere presente che se tu vuoi conquistare, se tu vuoi sedurre un uomo, ci devi mettere tanta energia. Questo te lo devo... Te lo garantisco. Non è che puoi... Non è che puoi sperare, diciamo, che le cose vadano così, tranquillamente, senza colpo ferire. Anzi, devi faticare. Gli uomini devono faticare. E quindi tu devi renderti difficile. Questo devi rendertene conto. Allora, quindi la prima cosa che devi farlo è frenzonarlo. Devi frenzonarlo. Quando incontra un uomo, se che ti piace, anzi, soprattutto se ti piace. Perché se non ti piace, non te ne deve fregare un par di balle. Cioè, se uno non ti piace, non ti piace. Non c'è... Non importa quello che è. Soltanto se ti piace, devi frenzonarlo. Soltanto se ti piace, devi farlo sentire, diciamo così, devi fargli sentire la difficoltà, fargli percepire la difficoltà. Se ti piace, non c'è... Cioè, se non ti piace, non c'è problema. Tanto quelli che non ti piacciono, li trovi comunque. Non è che questo è difficile trovare quelli che non ti piacciono. La cosa importante, invece, è proprio veramente riuscire a... a far innamorare quelli che ti piacciono. Quindi frenzonalo da subito. Digli, no, guarda, sei un'ottima persona, ti vedo proprio come un amico. Potremmo essere come fratello e sorella. Ecco, lo frenzoni così. Quindi, trattandolo bene, quindi facendoti vedere, ovviamente, come una donna attraente femminile, accattivante, perché devi fargli venire voglia di trombarti. Questo è un altro punto, eh. Devi fargli venire voglia di trombarti. E poi tu, tac, lo frenzoni subito. Questa è la prima cosa che devi fare. E poi vedere come si comporta lui. Attendere. se, come dire, non prova interesse per te, perlomeno hai una persona che è un amico. Se invece prova interesse per te, lo capirai, in qualche modo cercherai di manifestarsi, e tu, a quel punto lì, cercherai di sfruttarlo un pochettino. Cioè, ti farai scoccare, gli scoccherai più cene possibili. Dovrai farlo. Dovrai scoccare più robe possibili. E poi, comunque, gli dirai, dai, dove si trovate una fidanzata? Usciamo sempre assieme. Ma perché non trovi una fidanzata? Lo spingi verso altre donne. Ma per come mai vi siete lasciati con la ex? Intanto, così, lui vedi come si aprirà. E poi, una volta che hai fatto questo, se è un maschio come si deve, e che tu hai fatto colpo, in qualche modo si manifesterà. E tu dici, no, vabbè, ma io e te mai, non potevo mai fare. Se vuoi, possiamo, magari, farci una vacanza assieme, così, far qualcosa. Ma mai, 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 e poi mai potrai venire a letto con te. E quindi gliela butti lì perché con te prova affetto, sì, due coccole, così, insomma. L'importante sono due cose, che l'offerenzione dà subito, senza attendere di coinvolgerti, e che ti manifesti femminile, che manifesti la tua femminilità, perché questo è il vero connubio che da un lato gli fai scaturire l'ormone, facendoti percepire anche come gentile, affabile, non come una stronza, e anche come una donna di valore, non come una sciampista. E quindi, messe assieme queste due cose, tu avrai grandi possibilità di conquistarlo, avrai grandi possibilità di sedurlo, avrai grandi possibilità di farli innamorare, questo è molto importante. Se tu riesci a mettere in atto queste strategie, se riesci a far sì che lui ti desideri, far sì che lui ti si coinvolga con te, questo è un fatto importante, molto importante. riuscirai a raggiungere dei grandi risultati da questo punto di vista. Provare per credere, però devi provare, perché altrimenti rischi di fare, come dire, dei salti nel buio. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok, e su tutti i miei canali YouTube. Ovviamente attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Bene, bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!